In questo video parleremo di MakeCode e in particolare di MakeCode per Microbit. Si tratta di un'applicazione web e quindi utilizzabile tramite un normalissimo browser, cioè un programma di navigazione in internet. È un'applicazione sviluppata da Microsoft, è utilizzabile gratuitamente e open source. Microsoft ne rilascia infatti i codici sorgenti per andare a sviluppare eventualmente altre applicazioni o plugin estensioni per la stessa applicazione. È un'applicazione che come vedrete assomiglia molto a Scratch, quindi si utilizzano dei blocchi per programmare diversi dispositivi. Diversamente da Scratch, dove noi programmiamo dei personaggi a video, qui si programmano delle schede elettroniche o altre tipologie, tipo ad esempio vedete che permette di programmare le Lego Mindstorm, quindi sempre dei circuiti elettronici, in questo caso dedicati alla robotica. Noi andremo a vedere la scheda Microbit, è un microcontrollore con una matrice LED e dei pulsanti. Noi lo vedremo nella sua versione virtuale, ma quello che andremo a fare si potrebbe tranquillamente portare poi sulla scheda e vederne toccare con mano la programmazione che abbiamo fatto all'interno del programma e che andremo a vedere invece nel simulatore. Il sito di riferimento è makecode.microbit.org Quando siamo sul sito, la prima cosa che possiamo fare è o utilizzare uno dei tutorial o dei demo che vengono mostrati. Quindi, una volta che abbiamo fatto, e vi consiglio di utilizzarli, una volta che abbiamo preso un po' di pratica, possiamo entrare e creare un nuovo progetto. Attendiamo un attimo. Non c'è bisogno, come vedete, di registrarsi, quindi non serve nessun tipo di account. Una volta che siamo entrati, abbiamo creato un nuovo progetto, abbiamo questo ambiente. Allora, vi spiego un attimo. Abbiamo sulla nostra sinistra la scheda virtualizzata, la scheda Microbit. Questa scheda ha una matrice LED, poi proveremo a accendere questi LED, e abbiamo due pulsanti A e B. Noi non vediamo il retro di questa scheda, ma la scheda fisica vera sul retro ha anche un collegamento preso alla porta USB, una micro USB e un pulsante di Reset. È una scheda molto interessante perché ci permette di fare diverse cose. Rispetto ad Arduino, ad esempio, ha già al suo interno un termometro, una bussola, un magnetometro o meglio, un accelerometro. Quindi ha tutta una serie di sensori già a bordo e ci permette che ci possiamo utilizzare attraverso i blocchi. Quindi diventa molto molto semplice utilizzare questo hardware per programmare. È pensata in maniera così semplice proprio per soprattutto apprendere le logiche di programmazione legate ai microcontrollori. Le logiche di programmazione che si possono sperimentare con MakeCode per Microbit sono le stesse che poi si possono portare verso altre schede come l'Arduino e magari utilizzare non un linguaggio visuale ma un linguaggio vero e proprio scritto tipo ad esempio MicroPython o altri o altri linguaggi. Nella parte centrale abbiamo delle categorie di blocchi che cliccandoci sopra possiamo andare a vedere. Poi ne utilizzeremo qualcuno proprio come dimostrazione di utilizzo. I blocchi vanno trascinati in questo spazio che vedete qui dove troviamo già un paio di blocchi. Uno si chiama all'avvio e l'altro per sempre. Questi due blocchi sono molto importanti nella programmazione dei microcontrollori cioè delle schede tipo Microbit o Arduino. Nel blocco all'avvio noi andremo a mettere le istruzioni che ci servono quando noi accendiamo la scheda. E anche qui noi possiamo simulare la scheda accesa o spenta. Basta cliccare sul pulsante. Ok. Se noi adesso c'è il quadratino di stop clicchiamo la scheda è spenta vuol dire che non è alimentata. Se premiamo su avvia il simulatore la scheda virtuale viene alimentata. Quindi appena noi accendiamo la scheda vengono eseguite tutte le istruzioni che noi andiamo ad inserire nel blocco all'avvio. Il blocco per sempre invece ci permette di eseguire le istruzioni in continuazione. Per sempre. Si tratta di un loop di programmazione dove le istruzioni vengono continuamente eseguite. Ma vediamo come funziona. Facciamo prima a fare dei piccoli esperimenti. Allora. Ad esempio. Prendiamo da fondamentali il blocco mostra numero. Ne prendiamo tre. In questo modo. E scriviamo. Tre. Due. Uno. E rimane fisso l'uno perché è l'ultima istruzione che noi abbiamo dato. Fermiamo la scheda. Andiamo in fondamentali. Aggiungiamo un. Hello. Lo mettiamo nel per sempre. E scriviamo. Ciao. Riaviamo la scheda. E vedete che compare ciao. Qui c'è l'omologo del pulsante reale che è il reset. Che nella scheda vera si trova sul retro della scheda. Clicchiamo. La scheda viene resettata. 3, 2, 1. E compare la parola ciao. Vedete che ciao compare subito dopo il 3. Allora possiamo anche lasciarla avviata. Non è un problema. Facciamo questa cosa. Andiamo in fondamentali. Clicchiamo su altro. Prendiamo un pulisci schermo. Lo mettiamo subito dopo l'uno. E mettiamo un pausa. Subito dopo il pulisci schermo. Mettiamo. E le pause vengono fatte in millisecondi. Quindi se noi mettiamo mille farà la pausa di un secondo. 3, 2, 1. Si pulisce. E poi compare ciao. Vedete. Stoppiamo. La facciamo ripartire. 3, 2, 1. Pausa. Se volessimo fare un cronometro proprio. un countdown, scusate, proprio diciamo di secondi. Dovremmo andare a inserire una pausa in mezzo. Quindi di un secondo. Possiamo anche duplicare facendo tasto destro. E duplichiamo i blocchi. Se avete già usato ad esempio Scratch. Come software troverete molte o molte similitudini. A questo punto vedete che abbiamo all'avvio. Mostra il numero 3 fa una pausa. Mostra il 2 fa una pausa. E così via. Adesso proviamo. 2, 1. E ciao. Vedete che la logica di programmazione fa eseguire prima e una volta sola le istruzioni che noi mettiamo nel blocco all'avvio. E poi nel per sempre, in continuazione, noi vediamo apparire il ciao. Vedete che continua a seguire. Lo vediamo ancora meglio. Allora, per eliminare un blocco basta toglierlo e trascinarlo da dove li abbiamo presi. Oppure, se volete, tasto destro, elimina blocco. Adesso facciamo una piccola animazione. Allora, nei fondamentali abbiamo il mostra icona. Ne prendiamo due. Quindi lo duplichiamo. E scendiamo, ad esempio, di mettere queste due icone. Allora, la predefinita che è un cuore, grande, e poi c'è l'altro, ok, che è un cuoricino. Quindi andremo a eseguire in continuazione queste due. Facciamo partire la scheda. Ed ecco qui la nostra animazione. Vedete? Se volete, potete tenere i progetti, potete salvarli, scaricarli. Scaricandolo si può andare a scaricare direttamente sulla scheda. Oppure possiamo anche salvarlo in locale, perché tutto quello che noi facciamo all'interno del programma di navigazione viene sì salvato, ma, diciamo, viene salvato nella cache del programma. Quindi se voi andate ad eliminare la cronologia, andreste a eliminare anche gli eventuali programmi di vari script, scusate, che andrete a realizzare con questo software, noi possiamo comunque salvarlo qui sotto, scrivendo, ad esempio, progetto 1. Clicco sul dischetto. E mi viene chiesto di salvarlo. Salvo sulla scrivania e salvo. Se noi clicchiamo su pagina principale, torniamo alla nostra home e vedete che qui ho il progetto 1. Proviamo a fare un secondo progetto, partendo sempre dalla stessa logica. Riproviamo, facciamo mostra numero, mettiamo, ci prepariamo un po' tutti i blocchi e poi andiamo a sistemarli. 3 1 2 2 Duplichiamo il mostra numero 2 Duplichiamo la pausa Ancora il mostra numero Mettiamo l'1 Duplichiamo la pausa Se vogliamo pulire lo schermo dobbiamo andare in fondamentali, altro Prendiamo un pulisci schermo e mettiamo subito dopo una pausa Se non mettessimo la pausa dopo il pulisci schermo non otterremo l'effetto del pulisci schermo perché l'istruzione sarebbe talmente veloce che non vedremo nulla E così vedete che proprio invece con pulisci schermo e 1 E poi con la pausa tutto quello che noi andremo ad eseguire nel per sempre viene separato proprio da una da una pulizia di tutti i led cioè quindi vengono tutti spenti con il pulisci schermo Facciamo un'altra animazione usando questa volta però Allora se noi andiamo a vedere nel blocco mostra icona vedete che qui in fondo abbiamo il quadrato grande poi lo duplichiamo mettiamo abbiamo il quadrato piccolo e poi non abbiamo nessun'altra tipologia vedete di ad esempio accendere il puntino centrale però in fondamentali noi abbiamo un blocco che si chiama mostra led e ci permette di andare ad accendere i led che vogliamo andiamo a vedere ecco la nostra animazione facciamo un qualcosina in più riduplichiamo questo blocco e riduplichiamo anche questo blocco in questo modo abbiamo un'animazione ok vedete che abbiamo un attimo di stop su quello più grande perché perché abbiamo messo il doppio blocco se noi questo blocco lo togliamo otteniamo invece un'animazione un po' più fluida vedete se noi togliamo la pausa guardate cosa succede 3 2 1 e inizia subito l'animazione se invece noi rimettiamo la pausa 3 2 1 e schermo avete visto sono spenti tutti i led e poi è partita l'animazione anche in questo in questa tipologia di linguaggio a blocchi come in come in scratch abbiamo conta molto la sequenza delle istruzioni quindi prima vengono eseguite le istruzioni partire dall'alto verso il basso e in questo caso l'ordine è le istruzioni in avvio dall'alto verso il basso poi si passa al per sempre dall'alto al verso il basso oltre a questo si possono fare tantissime altre cose questo è un video introduttivo per capire come funziona questo questa applicazione questo make code questo strumento di coding con la programmazione a blocchi con la programmazione visuale si possono fare tantissime altre cose interessanti soprattutto poi chiaramente se si uniscono se si porta questa se si porta questa programmazione sulla vera sulla vera scheda la scheda permette anche ad esempio di comandare di mandare dei messaggi radio fra due schede abbiamo i pulsanti che si possono programmare insomma ci sono un sacco di cose che voi potete fare sperimentando e andando a vedere questi questi vari blocchi non mi resta che invitarvi a sperimentare provare perché il coding è soprattutto sperimentazione provate partite da queste cose semplicissime e poi provate a sperimentare anche gli altri blocchi che ci sono